Questa è la maglietta di Diego, comunque abbiamo fatto a cambio nei mondiali del 90 a Napoli. È stato piacevole scambiarla ma probabilmente non era un momento particolarmente felice insomma. Avevamo appena perso la semifinale del mondiale ai calci in rigore. Non era come oggi, una volta uno che sapeva battere punizioni quando faceva gol era veramente, perché era un fenomeno. Era veramente difficile riuscire a mettere la palla sopra. Era uno dei pochi che ci riusciva, ma perché aveva una tecnica veramente sopra fine. Il gol che ha fatto l'Inghilterra è uno dei più belli nella storia dei mondiali in assoluto. Partire da mette a campo e arrivare fino alla porta l'ha fatto in pochi insomma. È stato un gol incredibile, straordinario. Uno dei tanti che lui ha poi fatto così.